La stiamo preparando come tutte le altre, con la giusta cattiveria e attenzione, perché è un derby, è una partita importante e vogliamo vincere. Un derby che si è visto molto teso, acceso, sia all'andata che al ritorno in campionato, ti aspetta una partita altrettanto accesa e contesa, soprattutto a centrocampo? Sì, sarà una partita dura, come tutti i derby, come tutte le partite importanti come queste, tutte le finali play-off, la stiamo preparando bene. A questo punto della stagione serve forse più forza mentale che fisica? Sì, ci vuole anche quella fisica, però la testa è fondamentale, stiamo lavorando anche sull'aspetto mentale e vogliamo andare avanti, vogliamo vincere e andare alle final eight. Rientrano un po' di rinforzi dalla primavera dopo la chiusura del campionato della prima squadra, tra l'altro? Sì, sono ragazzi che ci daranno sicuramente una mano, come hanno fatto durante tutto il campionato, quindi non vediamo l'ora di giocare. Un invito forse alla gente di Chiavari che venga a sostenervi domani allo stadio? Sì, sarebbe importante per noi perché abbiamo bisogno di loro, perché è una partita importante e vogliamo vincere.